La misura è colma, la Lombardia sta accogliendo, perché ce li ha mandati il governo, più di un quarto di tutti i clandestini presenti sul territorio nazionale. Stanno facendo diventare tutta la Lombardia come messa a Como, perché la Svizzera non ne fa entrare mezzo. Stanno facendo diventare tutta la Lombardia come messa a Calais, perché l'Inghilterra non ne fa entrare mezzo e anche la Francia tende a rispedire in Italia. La misura è assolutamente colma, il governo si deve dare una svegliata. Va bene che il governo deletasse delle menzogne dei clandestini, ma alla decenza ci dovrebbe essere un limite.